La partita di Dominia contro Varese sarà per noi, per la mia squadra e per tutti quanti l'occasione di riscattarsi dopo la pessima prestazione contro 100 che ci ha eliminati dalle Final Four di Coppa Italia. Ripartiamo contro un avversario che come noi è reduce da uno stop, anche loro casalingo contro Leggio della settimana scorsa, ma un avversario che comunque appena due settimane fa era riuscito ad espugnare per la prima volta durante la stagione il campo di Livorno. Sappiamo quanto Varese sia una squadra forte e quanto abbia sia a sua propria disposizione giocatori importanti per la tegoria come Bolzonello o Matteucci. Noi sicuramente arriviamo a questa partita fisicamente e mentalmente provati dopo la partita di 100, però abbiamo come sempre del resto un unico risultato a disposizione che è quello di tornare subito a vincere.